Dianava fra mostri Ehi un messaggio Cosa sono io? Se mi vado via subito mi prenderà Mi stai ravissando Dunque fammi capire la gente ha paura di te A quanto pare si la gente ha paura delle mela a forma di c***o Ed è assurdo perchè tutti piacciono Gli umani come sono è normale che facciano così Dunque donna degli occhi che si muovono E 60 secondi per scoprire dove ho nascosto le figurine di Dragon Ball Super Se non indovinerai sarei costretto a vedere tutti gli episodi di cielo piccolo e ripetizione per tutta la vita Nei pensieri della donna Click Click Fine prima parte Iscriviti